Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme le soluzioni del laboratorio della settimana scorsa. Vi anticipo i prossimi passaggi. Giovedì ci sarà un laboratorio, tutto sommato, veloce, di riepilogo, in cui vedremo alcuni aspetti un po' più di dettaglio, ma non sostanzialmente alcuni aggiunte in più, sostanzialmente relative alla visualizzazione di mappe, alla fusione di diversi data frame, che saranno anche l'oggetto della lezione asincrona, che vi pubblico poi tra oggi pomeriggio e domani mattina. Vi anticipo che giovedì parleremo dei dati dell'Istituto Superiore di Sanità, quelli del monitoraggio del coronavirus, quindi sostanzialmente i dati XLS che abbiamo già visto in qualche esercitazione precedente, e la parte successiva con il dashboard presente sotto. Diciamo che vi invito per il momento a rivedere questa dashboard e identificare quali sono i problemi principali. L'esercizio l'avevamo già fatto assieme, ma può essere utile a distanza di un mesetto circa rifarlo per conto vostro, e soprattutto, parte nuova, andare a pensare a come andreste a rifare questi grafici, che sarà sostanzialmente uno degli aspetti, diciamo, la seconda parte dell'esercizio di giovedì prossimo. Quindi, iniziate a vedere per conto vostro questa parte, poi, diciamo, giovedì, e visto che magari è un lavoro lungo, anche nei giorni successivi, ci ritorneremo in modo da commentare diversi aspetti. Torniamo al nostro laboratorio. Avvio la preview, che sostanzialmente deve essere quasi vuota. Allora, mi sembra non funzionare, non so come mai. Allora, non funziona la preview, ma direi che possiamo guardare sul notebook. Quindi, a parte i vari aspetti, l'idea di quella di leggere questo file di tipo rds, rds è un formato interno di r che consente di memorizzare i dati in formato compatto. Se andiamo a vedere le dimensioni dei file, trovate qui di fianco, il file rds occupa 32 kb, il file csv ne occupa 36. Ovviamente, su dimensioni così piccole non c'è grossa differenza, quando iniziamo ad avere dei file molto grandi, l'rds è compresso, quindi è molto più piccolo. Il file è stato generato da questo script Tidy Istat, che è quello che troviamo qua, che sostanzialmente riprende i vari passaggi del laboratorio della settimana ancora precedente. C'è qualche pulizia dei dati in più, ma sostanzialmente niente di particolare. Quindi, una volta letti questi dati, abbiamo il nostro dataset, quindi abbiamo l'anno e il mese, il stesso abbiamo la data, l'attività, occupazione, disoccupazione, e per il caso generale, quindi non distinto per genere, abbiamo anche la disoccupazione giovanile. niente di nuovo. Il primo passo che era richiesto era quello di usare dei punti colorati per mostrare la disoccupazione di femmine, maschi, e la disoccupazione generale. Quindi, prendendo i nostri dati, abbiamo x è la data, y è la disoccupazione, e andiamo a mappare l'estetica colore su il sesso, e quindi abbiamo il layer geometrico dei punti. Quindi, il risultato è questo. Abbiamo ovviamente delle oscillazioni. Quando abbiamo un andamento, è evidente che questo tipo di visualizzazione non è l'ideale. Allora, io posso anche andare a fare un size uguale a 1, per ridurre un po' i punti, o farli addirittura ancora più piccoli, 0.5. Resta il fatto che, soprattutto dove ci sono grosse oscillazioni, dove magari le diverse serie si avvicinano l'un l'altra, è relativamente difficile andare a capire in che direzione vanno. Poi, se ho dei punti che salgono e scendono molto, è difficile capire quale viene prima, quale viene dopo. Per cui, la seconda richiesta, che è la cosa di utilizzare delle linee, ci dà una visione decisamente più facile da seguire. Con, comunque, è un grosso problema che è dato qui dal grosso picco discendente del lockdown dell'anno scorso. A questo punto, personalizzazione. Modificare il diagramma linee precedenti in modo che i colori utilizzati siano pink, sky blue e gray 50. Io vi ho messo questi come nomi, ma ovviamente potete scegliere tra tanti altri nomi. il modo più semplice è fare uno scale color manual e con questi tre valori che corrispondono ai tre livelli possibili dell'attributo colore che è mappato sulla variabile sesso. Vi faccio notare un piccolo aspetto di dettaglio. Io qui ho assegnato a questa variabile linee il risultato di ggplot più tutta la concatenazione. Per cui io posso mettere questo, posso aggiungere un ad esempio un theme minimal posso aggiungere ecco questa è un'altra personalizzazione che forse abbiamo visto in qualche esempio il metodo theme permette di andare a modificare alcuni parametri aggiuntivi diciamo che non riguardano dettagli specifici ma riguardano la visualizzazione generale. Se voi andate sull'help e andate a cercare team vedete che abbiamo tutta una serie di variabili tantissime con la relativa spiegazione. Ad esempio una variabile che possiamo utilizzare qui è la legend position che mi dice dove andare a mettere la leggenda. Ad esempio legend punto position uguale bottom l'altra cosa che non c'è qua è uno scale y continuous labels qui vedete che sono riportati come valori interi posso fare riferimento alle varie funzioni che si trovano nel package scales e qui posso usare label percent quindi a parte le variazioni vedete che abbiamo messo nella parte bassa dello schermo la leggenda e l'asse verticale questo punto usa come scala quella percentuale è più facile da leggere quindi io posso assegnare a una variabile il risultato di un ggplot quindi quello è un plot e quando lo visualizzo quindi semplicemente riporto quello faccio print della variabile questo viene disegnato per cui quello che ho fatto qui sotto è di fare linee quindi ho recuperato la variabile plot più ho aggiunto un altro dettaglio che è la scala di colori per cui sostanzialmente se io lo rieseguo vedete che mi ritrovo esattamente lo stesso plot di prima con la scala percentuale in verticale con la leggenda sotto ma con in aggiunta questa scala di colori mi pare di avervelo già detto ma nel caso ve lo ricordo per conoscere i nomi di tutte le tutti i colori posso usare colors che mi dà l'elenco di tutti i colori per cui ad esempio vedete che qua abbiamo pink ma abbiamo anche pink 1 2 3 4 che sono colori leggermente diversi per cui tanto per vedere abbiamo ad esempio pink 1 in colore leggermente più scuro 3 è decisamente più scuro quindi andando avanti con i numeri normalmente il risultato è leggermente più scuro allora se io vado sul colors non ho un help quello che posso fare è usare allora c'è un ecco demo colors che potete chiamare qui e che vi genera una serie di grafici con le varie tavolozze se no la cosa più più facile da da fare è quella di andare su google e andare r stat colors e abbiamo colors in r vedete il documento con l'elenco e i colori ok sono otto pagine quindi non ok quindi se volete vi metto il link a questo documento online qui in chat così volendo ce l'avete come come riferimento ok però è immediato trovarlo su allora prima domanda torno su dove ho definito le linee ok dico linee linee assegnato a ggplot ecc 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 e finché non faccio questa seconda linea dove valuto linee non mi viene visualizzato per cui io posso memorizzare un pezzo di plot e poi aggiungere nuove specificazioni ricordiamoci che il plot è sostanzialmente dichiarativo quindi a parte l'ordine degli aspetti geom l'ordine degli altri elementi è sostanzialmente rilevante e quindi posso comporlo pezzo per pezzo un altro modo di farlo è dire linee andiamo a mettere ggplot e poi facciamo linee freccia linee più la scala linee freccia linee più la linea e vado a mettere ancora questo l'ultimo e quindi questo mi dà di nuovo esattamente lo stesso risultato di prima non cambia assolutamente nulla ogni operazione di ogni somma e anche l'operazione ggplot generano una variabile che in realtà è un oggetto e man mano tutte le funzioni scale geom theme eccetera vanno ad aggiungere dettagli dentro quell'oggetto e quell'oggetto lì resta una dichiarazione di come è fatto il grafico fino al momento in cui qui sotto facciamo la valutazione e nel momento in cui facciamo la valutazione dell'oggetto questo viene disegnato altra domanda grey 60 che cos'è grey 60 allora mentre una parte di colori hanno il colore principale e poi 1 2 3 4 che indicano delle tonalità leggermente più scure della tonalità principale grey mi dà sostanzialmente seguito da un numero mi dà sostanzialmente il livello di luminosità per cui grey 60 è relativamente chiaro se metto un grey 10 vedete che è molto più scuro se metto un grey 90 ed è molto molto chiaro quindi grey più un numero non è la variante ma è sostanzialmente il livello di luminosità questo c'è soltanto per il grey perché normalmente sugli altri colori non vado a gestire così in maniera fine la luminosità sui toni di grigio invece sì perché quindi conviene avere la possibilità di definirlo in maniera così fine quindi in percentuale di luminosità qui grey 50 di nuovo è una via di mezzo è un 50% di luminosità quindi caratteramente scuro ok allora qui abbiamo l'estetica line type per cui line type è un numero che varia da 1 a 6 ed è sostanzialmente mappato 1 è continuo 2 è tratteggiato eccetera quindi modificare il grafico precedente in modo che i valori tra maschi e femmine siano a tratto continuo mentre quelli generali siano a punto e linea ecco a questo punto io non posso allora fatemi riprendere il codice che ho scritto qua su non posso andare a modificare il grafico ulteriormente perché ormai l'estetica cioè la geom line l'avevo già messa e quindi non posso andare a modificare l'estetica o l'estetica la posso modificare o a livello di plot quindi in gg plot però la funzione l'ho già chiamata o a livello di line però di nuovo anche il gg online l'avevo già chiamato quindi non posso andare a sovrascriverlo in quel modo quindi devo riprendere tutto fatemelo scrivere in maniera un pochettino più compatta senza la la somma di prima allora il possibile vantaggio di scrivere le cose con l'accumulazione dentro la stessa variabile è che io posso togliere o mettere una particolare riga e quindi vedere come cambia il risultato la stessa cosa c'è quando io lo faccio in questo modo perché se voglio togliere il team minimal basta commentarlo e sostanzialmente funziona come se non avessi messo quello allora la parte di estetica abbiamo detto ci sono i colori e in più abbiamo line type il line type lo posso mettere line type lo posso mettere di nuovo qui e posso mettere uno scale line type manual e i valori sono sostanzialmente ci detto che i primi due quindi maschi e femmine sono linea continua quindi uno e l'ultimo quindi quello generale ha una linea tratteggiata come faccio come faccio a sapere quale è l'ordine beh posso fare levels di istat dollaro sesso e questo mi da f mmf quindi l'ordine con cui vengono trattati è questo a meno che io non lo redefinisca quindi uno si applica a f uno si applica a m e due si applica a mf a questo punto se no ecco ho dimenticato un più in fondo giustamente ho fatto linee ma non ho valutato il tutto ok ecco ho dimenticato la colorazione che era quella che abbiamo fatto qui sopra se a questo punto ho esattamente quello di prima con le linee tratteggiate e allora avete visto che le linee tratteggiate abbiamo sei possibili livelli questo numero sei ritorna più volte nel senso che il massimo numero di tipi diversi di linee tratteggiata è sei il numero passimo di tipi di punti che posso utilizzare in un grafico è sei quando ho dei valori discreti tendenzialmente anche lì alcune scale danno un limite di sei per cui l'idea è che quando abbiamo qualcosa di discreto oltre i sei livelli sono difficili da percepire ok che richiamano quello che abbiamo visto diciamo all'inizio del corso parlando di teoria dove diceva che il numero di varianti che noi riusciamo a percepire è abbastanza limitato ok quattro è un livello a cui arriviamo tutti cinque e sei sono livelli leggermente più difficili ci possiamo arrivare ma oltre è veramente una un tentativo inutile nel senso che difficilmente chiunque riuscirà a distinguere più di sei livelli diversi a questo punto io vi ho anticipato la parte di scala continua quello che posso fare in generale oltre a definire la funzione come prima è di utilizzare una funzione che prende i valori dei breaks quindi i punti in cui ci sono le tacche e li trasforma in etichette quindi in string la funzione sostanzialmente la possiamo rivedere qua è quella che vediamo qui quindi ho function e ho paste0 round dv per cento e la percentuale questo è un modo poi ovviamente posso utilizzare la funzione scale percent oppure scale label percent che è ancora meglio la differenza è sostanzialmente che nelle vecchie versioni si utilizzava percent nelle ultime versioni del package scales la raccomandazione è di utilizzare label underscore percent aperta chiusa tonda label percent è una funzione che restituisce un'altra funzione ed ha una serie di parametri che mi dicono come deve essere costruita questa funzione di etichettatura ok se dividisco la mia funzione posso scrivere quello che voglio quindi qui posso scrivere per cento per cui in questo caso dodici otto cinque per cento se io metto un una cifra decimale 5 7.5 10 12.5 quindi attenzione a come stampiamo le cose perché potremmo avere dei risultati strani perché magari abbiamo arrotondato la funzione label percent mi da la visualizzazione diciamo così standard default tenete presente che sulle scale io posso anche andare a mettere esplicitamente i break quindi i punti in cui andare a indicare le tac per cui ad esempio potrei mettere 4 6 8 10 12 no 0,04 0,04 0,08 0,010 0,12 ok altrimenti non quindi vedete che allora 4 è fuori dall'intervallo però 6,8,10,12 possiamo metterci anche un 0,14 e abbiamo i valori quindi questo ci permette di personalizzare quanto vogliamo per cui l'idea base è che io posso partire da un qualcosa di veramente molto semplice quindi colorato più geomline che comunque mi dà una visualizzazione e poi posso man mano aggiungere tutta una serie di dettagli che mi portano ad esempio a questo aggiungo ancora quello che avevamo messo prima quindi theme minimal view theme legend position e quindi tra la versione iniziale in cui avete abbiamo messo veramente il minimo indispensabile abbiamo messo i dati abbiamo messo il mapping su x e y abbiamo messo il mapping di colore arriviamo a questa in cui abbiamo aggiunto tanti elementi di dettaglio il direct labeling il prossimo elemento l'idea è andiamo a rimuovere la leggenda e la sostituitiamo col direct labeling a questo punto cosa posso fare allora qui mi vado a calcolare la posizione estrema quindi l'estremo destro del mio diagramma quindi gli ultimi punti e lo faccio facendo istat pipe filter data uguale a max di data quindi prendo l'ultima data disponibile per cui se faccio questo dentro l'estremo ho vedete i tre dati che corrispondono a m f m ed f per il 28 febbraio dopo di che ho sostanzialmente i dati di prima quello che aggiungo è questo vado a mettere un layer testuale dove la label è data dal sesso quindi f m f i dati sono presi da questo nuovo data frame distillato qui abbiamo soltanto gli ultimi elementi e poi do dei parametri di posizione quindi il risultato è questo ehm vedete conto che io potrei mettere tanti elementi geometrici eh che utilizzano questi dati aggiuntivi quindi potrei mettere un germ point eh ovviamente non ha bisogno del label perché bastano x e y non servono questi perché non si applicano in questo caso vedete che abbiamo aggiunto i punti sulla posizione estrema destra quindi sull'ultima data disponibile altro modo di aggiungere un layer usando dei dati senza doverseli calcolare prima è quella di mettere data uguale una funzione che fa la trasformazione per cui posso mettere function i miei dati diciamo di e restituisco di pipe filter data uguale 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 max di data sostanzialmente vado qui a indicare l'operazione che ho fatto prima quindi il risultato è esattamente lo stesso veniamo ai due parametri che ho utilizzato h giuste l'abbiamo visto nella 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 lezione 0 oppure h giuste 0 significa left ok quindi il punto che qui abbiamo disegnato esplicitamente resta a sinistra del grafico nudge x e y non è in pixel ma è in unità dell'asse x queste sono date e quindi 100 sono i giorni quindi sostanzialmente è allineato a 100 giorni dopo la posizione quindi il valore che noi utilizziamo qui dipende dall'asse che noi stiamo utilizzando per cui se fosse stato un asse percentuale allora ve lo faccio mettere invece che a destra ve lo faccio mettere sopra quindi se io qui metto center ve lo mette vabbè senza nudge scusatemi perché ve lo sposta ve lo fa esattamente sul punto se io voglio metterlo sopra andrò a mettere un vjust uguale bottom vuol dire che il punto sta sotto l'etichetta vedete che l'abbiamo tirato su a questo punto se vogliamo spostare queste etichette di poco è ovvio che dobbiamo spostare di se spostiamo di un punto percentuale quindi facciamo y no nudge y se diciamo 1 vedete che vanno su perché vanno scusate 1 vuol dire 100% quindi 0.01 è un punto percentuale che è tanto vedete che rispetto qui un punto percentuale è una tacca dalla tacca minore alla tacca maggiore quindi in realtà ancora meno deve essere l'uno per mille vedete che è un po' sopra quindi sono tutte unità in base all'asse che stiamo utilizzando se noi mettiamo un'acca giusto uguale left lo spostiamo anche in là allora scusate ci sono due lo spostiamo un po' in là e volendo possiamo anche aggiungere un altro un altro po' di spostamento sulla destra questo ovviamente bisogna usarlo un po' a tentativi finché si trova la posizione giusta attenzione che a volte nuge x uguale a 400 lo sposta molto in là quindi su questo si può giocare abbastanza altra domanda come si fa a centrare il titolo del grafico allora non lo ricordo esattamente ma credo che sia un team title uguale element text h giusto uguale center sto andando a memoria e non garantisco che funzioni no questo non c'entra nulla possiamo andare qui andiamo sul team scusate non è title ma è plot punto title element text element text funziona no possiamo cambiare il colore ma l'allineamento potrebbe essere a position perfetto ottimo no è diverso allora torno indietro 0,5 potrebbe essere la risposta corretta ok ottimo sì sì 0 vuol dire a sinistra 0,5 in centro e 1 a destra allora sulla parte di team io non ho aggiunto nulla nelle lezioni perché è veramente diciamo i dettagli quindi non vi chiedo di arrivare a questo livello almeno per il corso se avete necessità l'help online è qui quindi ok a questo punto serie multiple mostriamo sia l'andamento di disoccupazione che quello giovanile quindi che cosa faccio allora io qui metto in in questa variabile il mio dato in cui io vado a selezionare a scartare sostanzialmente l'attività di disoccupazione quindi vado a prendere disoccupazione disoccupazione giovanile faccio un pivot longer il tipo faccio in modo che diventi un factor e poi ricodifico vedete questo mutate qua serve per avere come etichette generale e giovanile ok se io metto questo faccio così e poi dopo andiamo a vedere l'altro l'altro aspetto importante è qui che va di nuovo a utilizzare il valore estremo destro per calcolare poi il direct leveling a questo punto gplot di nuovo l'x è sempre la data y a questo punto è la disoccupazione perché abbiamo detto values to disoccupazione quindi è la colonna che abbiamo creato in quel modo scale color manual un grey 60 e un sea green quindi un colore verde guide uguale a none vuol dire non mettermi la la leggenda aggiusto la scala y la scala x metto le etichette per il direct labeling e poi sostanzialmente vado a mettere il punto esattamente come prima l'etichetta sull'asse y non la metto vado a mettere il titolo e faccio questo quindi sostanzialmente ottengo questo giovanile e generale due aspetti importanti giovanile e generale li ho definiti con questo factor fct record fct è una funzione che si trova in uno dei package del tidyverse che permette di andare a operare in maniera semplificata con i fattori quindi il record vi permette di mettere la nuova etichetta e l'etichetta precedente se io ometto questo quindi quest'ultimo mutate cioè mantengo il valore precedente il risultato è questo vedete disoccupazione e poi taglia perché taglia perché sostanzialmente l'asse x viene espanso un po' per far stare una certa area attorno al punto in cui vado a scrivere l'etichetta ma non tiene conto della lunghezza dell'etichetta per cui se ho un'etichetta molto lunga non mi ci sta è il motivo per cui anche prima anche prima comunque non me lo tagliava anche prima di fare questa di togliere questa abbreviazione dei nomi è il motivo per cui io ho aggiunto questo scale x date e ho messo il parametro expand 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 riceve come risultato e come valore il risultato della funzione expansion a cui posso passare due parametri uno moltiplicativo e l'altro additivo sostanzialmente in questo caso ho utilizzato semplicemente il valore moltiplicativo e ho messo 0,5 per il lato sinistro e scusate e 0,15 per il lato destro vuol dire che aggiungo un 15% della lunghezza standard del mio asse x a destra avendo messo etichette ancora più lunghe devo mettere di più ad esempio un 25% vedete a questo punto ho allungato in realtà probabilmente 0,5 0,4 vedete che questa non ci sta però sono dovuto andare un 40% oltre la larghezza ok ed è anche il motivo per cui avevo messo questo recode per avere dei nomi disoccupazione generale e giovanile che sono più brevi quindi mi richiedono un'espansione un po' più ridotta dell'asse x altrimenti vedete che devo andare a creare un sacco di spazio aggiuntivo per farci stare l'etichetta cosa che non è ideale per cui con quei nomi più brevi mi basta un 15% in più per andare a far stare tutto 15% forse addirittura è esagerato vedete che c'è ancora dello spazio in più domanda non si può andare a capo con l'etichetta sì si può andare a capo il punto è che non c'è una capa automatico dovrei utilizzare una funzione che si chiama str str wrap che sostanzialmente prende una stringa e va a capo quindi qui dovrei andare a capo attenzione che str wrap non obbedisce le regole di interruzione delle parole di sillabazione di un qualunque linguaggio no brutalmente dopo tot lettere va aggiungi una capo quindi non fa sillabazione ma è una capo brutale quello che potrei fare qui invece di mettere giovanile potrei mettere disoccupazione sle scenne giovanile a questo punto vedete che ho disoccupazione e giovanile sotto quindi può andare bene se io ho un punto deciso dove andare ad andare a capo altrimenti se io qui vi faccio vedere sul testo metto str wrap e metto 10 no non me lo fa allora non so perché non me lo faccia bravo scusate non qui allora per qualche strano motivo non mi funziona allora domanda per evitare l'espansione dell'asse ho selezionato come punto di etichetta non l'ultimo ma uno un po' precedente sì può essere una soluzione il il problema è che se io vado a prendere un punto molto precedente rischio di andare a sovrapporre il testo con con le linee se invece scrivo a destra dell'ultimo punto sono sicuro di non interferire con con le linee poi è ovvio che io potrei anche andare a lineare a sinistra dell'ultimo punto e quindi non avere la necessità di espansione sì ecco quindi ha richiesto un lavoro di try and error con Nuge sì devo andare a farlo ovviamente un po' a mano andare a sistemare in altezza o in spostamento il valore con questa soluzione qui mettendolo sempre a destra l'unica cosa qui posso andare ad aggiustare alla fine è l'espansione dell'asse un'ottica di esame avendo avremmo potuto evitare il direct leveling per avere un grafico più compatto sì può esserci diciamo che in alcuni casi quando ho due valori il direct leveling forse può essere omesso quando ho qualche valore in più probabilmente è più utile però può essere anche quella una soluzione ok tenete conto che per l'esame questo lavoro voi non lo dovete fare nel breve tempo dell'esame stesso ok la parte di programmazione la fate dopo l'esame a casa seguendo ovviamente le indicazioni di redesign che avete definito voi durante l'esame stesso quindi durante l'esame analizzate un problema identificate come poter migliorare un grafico e dopodiché scrivete il codice a casa con calma quindi non avete la necessità di risolvere il tutto nel giro di 5 minuti per cui tornando alla domanda quando ho due serie di dati posso tranquillamente utilizzare una leggenda non è un problema di comprensibilità se ho più serie di dati probabilmente conviene effettivamente utilizzare il direct leveling perché mi dà una possibilità di comprendere meglio quali serie rappresentano che cosa per cui quando vi dicevo poi ci torniamo a parlare dell'esame ok però quando vi dicevo che mi aspetto un lavoro ben fatto visto che comunque lo fate a casa quindi non avete dei limiti tempo stringenti mi riferisco a andare a raffinare tutti gli aspetti ok per cui se mi mettete un'etichetta tagliata come quella che vedete qua ecco quello non è un errore grave sicuramente non è quello che vi farà perdere la sufficienza però se ci sono tanti dettagli come questi ecco allora iniziano a pesare per cui vorrei vedere un lavoro fatto e ben curato per cui le etichette si devono vedere si devono leggere eccetera annotazioni ecco questo qua è un'estensione rispetto a quello che abbiamo fatto prima vedete io qui mi sono costruito due data frame aggiuntivi di supporto in cui ho preso il minimo e il massimo della disoccupazione quindi esattamente come prendevo il valore più a destra qui ho preso la disoccupazione che è uguale al massimo dopodiché ho aggiunto quindi esattamente come prima un punto e il testo corrispondente il dato qui è max e invece qui sotto il dato è min adesso arriviamo a vedere un attimo i dettagli però l'idea è che vedete qui ho il punto max per entrambe le serie il punto min per entrambe le serie con l'etichetta attenzione quando fate questo perché qui io voglio il massimo e il minimo per ciascuna serie quindi qui è necessario fare prima un grow buy se non faccio un grow buy vado a prendere il massimo assoluto e il minimo assoluto ok è ovvio se ci pensiamo a posteriori l'importante è pensarci prima perché altrimenti rischiamo di non vedere tutti i punti l'etichetta è calcolata qui in questo modo quindi sostanzialmente faccio un pace zero round disoccupazione percentuale backslash n mese spazio anno attenzione io qui l'ho calcolata nella estetica avrei potuto calcolarla qui qui avrei potuto tranquillamente andare a mettere un altro passaggio dove faccio un mutate label uguale e vado a prendere sostanzialmente questo e qui vado semplicemente a dire label se ho commesso qualche errore rieseguo tutto vediamo se funziona no mutate ecco perché mi manca una tonda qua il risultato è sostanzialmente lo stesso solo che invece di calcolarmi l'etichetta qui all'interno dell'estetica l'ho aggiunta come colonna qua su stessa cosa stessa cosa la potevo fare sull'alto ve lo lascio nei due modi così sapete che possiamo calcolarlo qui o possiamo calcolarlo qui sotto direttamente nel nel dato altra possibilità invece di fare questa espressione qui io qui potrei andare a mettere una funzione che partendo dal dal dato dal dataset di partenza dal dataset di partenza mi fa queste operazioni qui in realtà posso utilizzare lo vediamo velocemente oltre a scrivere function eccetera posso utilizzare la notazione compatta che è tilde e poi uso punto x quindi tilde punto x equivale a scrivere data uguale function punto x e poi eccetera eccetera allora allora sì domanda io qui ho fatto un filter era possibile fare anche un summarize sicuramente alla fine è lo stesso quindi avrei potuto scrivere questa cosa qua invece di un filter con un summarize e disoccupazione uguale a mi disoccupazione io qui ho creato due data frame separate avrei potuto creare un unico data frame e quindi utilizzare due colonne diverse nelle due varianti altra possibilità quindi tante soluzioni alternative che mi danno sostanzialmente lo stesso risultato volevo tornare qui alla sintassi qui avrei potuto scrivere sostanzialmente punto x e poi questo calcolo quindi tilde punto x è un modo compatto di andare allora vediamo se ho commesso degli errori da qualche parte sì ah sì scusatemi disoccupazione è uguale a min non è un uguale uguale qui ho fatto qualche errore quindi Allora non so cosa ho sbagliato Giustamente ho dimenticato il pipe qua No Non so che cosa ho fatto, che pasticcio ho fatto Per intenderci, questa cosa qua salvo Non so se ho sbagliato Grazie devo verificare che l'errore sia qua no, l'errore è da qualche altra parte questo è a posto questo è a posto questo è a posto allora, Dijimin è probabilmente sbagliato qua sotto ok sì, in questo Samurai avrei dovuto aggiungere anche gli altri dati che sono sostanzialmente la data perché altrimenti non me lo prende per come l'ho costruito io a questo punto di nuovo siamo al punto di prima volevo mostrare invece questa punto x che è equivalente a scrivere function eccetera eccetera ok, leggermente più compatto attenzione, questo tipo di notazione non funziona dappertutto però in alcuni contesti all'interno del title funziona abbastanza bene ed è un po' più compatto ovviamente se devo utilizzare i dati minimi per sia il testo che per il punto non vado a scrivere due volte ma mi conviene scrivere il mio data frame quassù calcolarlo e poi utilizzarlo sotto altro caso in cui ho un unico un unico data frame calcolato in questo modo da esattamente lo stesso risultato di prima a questo punto velocemente per vedete che comunque soprattutto qui ho un'oscillazione enorme dei dati l'oscillazione in parte fisiologica in parte vedete che l'ampiezza di questa oscillazione è enormemente più grande di quella della proporzione generale il motivo qual è? è molto semplice sapete che Istrat si basa sul campionamento all'interno del campione generale il numero di giovani è molto ridotto quindi basta una piccola differenza all'interno di questo numero ridotto di persone per cambiare significativamente la percentuale per cui se immaginiamo che ci siano 100 persone campionate di cui 10 giovani se delle 100 persone una diventa da occupata e disoccupata vuol dire una variazione dell'1% se una persona dei giovani passa da occupata e disoccupata vuol dire 1 su 10 quindi la variazione è immediatamente del 10% qui diciamo che la variazione enorme è dovuta al fatto che il campione che sta dietro è molto più piccolo quindi non è il fatto che la disoccupazione giovanile varia in maniera così selvaggia è proprio per il modo in cui è calcolato motivo per cui molto spesso quello che si fa è di andare a utilizzare una media mobile non sto a tornare su che cos'è una media mobile l'avete già visto durante l'esercitazione di laboratorio ci sono tanti modi di risolvere questo esercizio uno è ad esempio questo vado sostanzialmente a definire un numero di n a iniziali quindi questo è il risultato vado a metterci il numero di n a che è uguale all'approssimazione inferiore all'intero inferiore di n-1 mezzi quindi inizio a costruire i primi n a quelli che stanno in testa dopodiché faccio while v while length di v quindi la lunghezza del mio vettore che voglio andare a utilizzare e maggiore di n n è l'ampiezza della finestra su cui voglio calcolare la media mobile risultato è uguale a concatenazione del risultato con la media dei primi n numeri all'interno del vettore v quindi da 1 a n dopodiché faccio v uguale a tell di v-1 quindi sostanzialmente vado a modificare il vettore che mi sta dato in input andando a togliere un elemento per volta il primo e tell di v-1 sostanzialmente equivale a scrivere v uguale a v di quadre due due punti length di v quindi vado a prendere tutti gli elementi che stavano in v tranne il primo lo accorcio di 1 togliendo il primo elemento e continuo a iterare quindi calcolando la media dei primi n elementi togliendone 1 e andando avanti finché la lunghezza del pezzo di v rimasto è maggiore o uguale di n a questo punto aggiungo gli ultimi n a in fondo e restituisco il risultato domanda la media mobile in posizione i è data dagli n elementi precedenti no la media mobile in posizione i è data dagli n mezzi precedenti e gli n mezzi successivi ok con le approssimazioni più o meno 1 ovviamente se sono se n pari o dispari perché? perché sostanzialmente vado a mettere una serie di n a prima quindi vado a mettere n mezzi n a quindi il primo elemento che non sarà n a corrisponde al se n è uguale in questo caso a 3 o 2 vado a prendere questi tre elementi quindi 5 più 2 più 2 fa 3 e il risultato lo metto qui su quello centrale e via di questo passo se ho 4 elementi è ovvio che su 4 elementi devo andare a scegliere non lo posso centrare esattamente devo andare a finire o qui o qui ok? l'idea è di mettere sul primo dei due elementi centrali quindi se fosse una media mobile a 4 elementi andrei a mettere qui 5 più 2 più 2 più 6 cioè 15 diviso 4 e via di questo passo domanda andando a considerare i vari successivi non è molto fedele come misura allora se vogliamo andare a fare una predizione probabilmente mi conviene calcolare la media mobile come gli ultimi sette giorni precedenti o gli ultimi n giorni precedenti questo è puramente descrittivo quindi non voglio avere insomma sostanzialmente l'obiettivo di una stima poi la posso calcolare in maniera diversa quindi mettere tutti gli n ai all'inizio e andare a calcolare in avanti quindi vuol dire che la media mobile di un certo punto è la media di quello più gli n-1 precedenti ci sono vari modi di calcolare a seconda dell'obiettivo che ci vogliamo porre quindi quello che dicevo se vogliamo calcolare la media mobile all'indietro quindi in un giorno voglio mettere la media mobile degli ultimi n giorni andrò a mettere n-1 n-1 all'inizio e poi metto tutti i valori calcolati dopo non cambia tantissimo se andiamo a calcolare soprattutto su periodi così lunghi di anni la media mobile calcolando tenendo dentro gli ultimi tre giorni oppure gli ultimi tre settimane oppure no a questo punto quello che posso fare è andare a utilizzare come Y la media mobile del disoccupazione giovanile e in questo caso era su tre mesi quindi il risultato è sostanzialmente questo ovviamente ci sono alcuni NA uno in fondo e uno in cima che vengono scartati vedete che rispetto ai valori che quindi sono rappresentati qua come i punti grigi la media mobile insomma varia ma non così tanto e ammortizza sostanzialmente anche questo picco in negativo del 2020 ci sono vari modi di fare approssimazioni ce n'è uno predefinito nel nostro le librerie di ggplot che si chiama Jerome Smooth che sostanzialmente va a calcolare un'interpolazione fatta con i minimi quadrati e che ci dà questa interpolazione ovviamente è decisamente meno fedele se abbiamo un andamento insomma molto vago ecco questo può essere utile altrimenti la media mobile è molto più precisa tenete conto che se invece di mettere a tre mesi lo mettessi a 5 vedete che è molto più arrotondata se lo metto a 7 è molto meno frastagliata 3 diciamo che è il valore minimo ragionevole in questo caso per cui Jerome Smooth ogni tanto va bene fate attenzione che vedete che in questo caso vi dà un valore che scende decisamente ma evidentemente sbagliato l'ultimo pezzo era un po' più complicato quindi si trattava di andare a fare un po' di calcoli non mi soffermo tanto sui calcoli verificare che la distribuzione della somma tra la traccia di occupazione e la proporzione di inattivi sia circa uguale a 1 utilizzando un boxplot quindi vado a prendere la somma di occupazione disoccupazione di attività per 1 o meno attività e andando a disegnare faccio tre boxplot 1 per ogni genere vado a vedere i valori vedete che i valori sono molto molto alti molto prossimi a 1 non sono esattamente uno per i motivi insomma descritti poi nell'esercitazione perché comunque la popolazione di riferimento non è esattamente la stessa soprattutto per i maschi c'è una forte un elevato numero di persone di età molto avanzata che vengono conteggiati negli attivi e quindi non vengono conteggiati negli altri e quindi sostanzialmente mi riducono la somma totale qui l'ultimo deciso vi chiedevo di utilizzare un vario in plot utilizzando jitter con insomma una visualizzazione dei dati con i puntini ok questo è un altro modo di visualizzare meglio la distribuzione dei dati il box plot è molto molto semplice però ci nasconde tantissimi dettagli l'ultimo pezzo era quello di andare a dopo questa verifica andare a usare un diagramma d'area per mostrare l'andamento di queste tre grosse fasce la percentuale di occupati la percentuale di disoccupati e la percentuale di inattivi che è sostanzialmente fatta così quindi in rosso gli occupati in verde i disoccupati e in blu gli inattivi se andiamo a vedere all'estrema destra vado a ingrandire un po' la dimensione del nostro plot vedete qua sulla estrema destra il picco che c'è nei blu che corrisponde ai primi mesi dell'anno scorso è la causa principale di quel calo enorme del tasso di disoccupazione nel senso che buona parte delle persone che prima erano disoccupati fino a un attimo prima subito dopo diventano inattivi nel senso che iniziando il lockdown alla domanda dell'intervistatore Istat che gli chiede stai cercando lavoro la risposta è no perché nel lockdown è inutile che mi metta a cercare lavoro quindi in quella fase lì le persone sono state classificate come inattive invece come disoccupate semplicemente perché in quel momento non stavano cercando lavoro quindi quel calo brutale del tasso di disoccupazione che c'è stato nel aprile marzo dell'anno scorso è dovuto a uno spostamento di un sacco di persone da disoccupati a inattivi se andiamo a vedere gli occupati vedete che c'è stata in realtà anche qui una riduzione quindi attenzione quando guardate le statistiche su occupati e disoccupati perché sono entrambi indicatori utili quindi non basta guardare il tasso di disoccupati bisogna vedere anche quello di occupati e se volete una visione ancora più completa quella di inattivi direi che con questo per oggi abbiamo chiuso allora vi faccio rivedere il codice dell'ultimo chunk ve lo metto comunque subito a disposizione e così lo potete guardare con calma domanda le label nell'esercizio minimo massimo escono dal grafico allora torno un attimo su anche qui non ve l'ho commentato ma qui vedete anche sulla scala y ho fatto un'espansione quindi ho allargato un po' la scala in modo da farci stare quegli elementi esattamente come avevo fatto prima sull'orizzontale quindi di nuovo purtroppo con etichette molto grandi il grafico non si adatta automaticamente quindi non tiene conto della lunghezza o dell'altezza dell'etichetta date un'occhiata al dashboard del sottosuperiore di sanità perché sarà poi uno degli oggetti del prossimo laboratorio vi pubblico a breve un'ulteriore lezione asincrona con i dettagli che possono essere utili che utilizzeremo poi per il laboratorio di giovedì prossimo direi che con questo vi metto tutti i link anche su Slack appena finito buon pomeriggio e noi ci vediamo giovedì prossimo grazie a tutti